Buona, cordiale saluto Olanda e Messico di fronte per questi ottavi di finale mondiale 2014. Subito i messicani attaccano i portatori di palla olandesi. Comunque Yamat sul settore destro si accentra, poi tocca lì dietro per De Jong, è fermato, attenzione a Sneijder, a limite, Sneijder cerca lo spazio, poi deve tergiversare nell'attesa di qualche compagno, De Jong, Klasi, Robben, Yamat, avanza Yamat. Yamat riesce a passare il gol, vantaggio dell'Olanda con Van Persie, Olanda 1-0, incredibile gol, c'è stato questo doppio dribbling, scusate, rivediamo, 1-2, poi il tocco in mezzo è Van Persie. Non ha sprecato l'occasione buona, Olanda dunque subito vantaggio sui messicani, Bacala aveva detto sono favoriti per via del clima, ma detto ciò, Olanda è partita bene. Ferrera, Fabian, Lyon, ancora Fabian, dentro per Dos Santos. Il cross per Hernandez, adesso sono i messicani che pressano gli olandesi. Sneijder, va persi, Lyon, Dos Santos, Klasi, Marty Cindy, ancora Klasi, Blind, Lenz, Sneijder. Ottimi passaggi filtranti olandesi, Lenz, Blind, dentro per Van Persie, la rovesciata di Robben. Olandesi che appena arrivano in zona tiro non si fanno pregare e d'altronde deve essere così, soprattutto agli ottavi di finale di un campionato del mondo. Sneijder, Klasi, Lenz, Van Persie. Fittarete di passaggi precisi, quella olandese, Lenz, Blind. Fermato Blind da Fabian che poi prova a partire calcio di punizione per il Messico e probabilmente cartellino e difatti cartellino giallo per Blind. Punizione battuta, intercettano gli olandesi, Van Persie. Lyon. Lenz. Avanza Lenz. Mette la palla in mezzo e poi Ochoa fa il suo pallone. Peña, Herrera, Moreno, Guardado, Peña, fermato, Jammat. Van Persie caricato ma l'arbitro dice che non c'è fallo. Marquez. Lyon prova la percussione sulla fascia destra, lo raggiunge e gli porta via il pallone Lenz. Sneijder, Klasi, finisce il primo tempo con l'Olanda in vantaggio per 1-0. Da Bruno Pizzoletutto, linea allo studio. Riprendiamo il collegamento per questo secondo tempo tra Messico e Olanda. Olanda che conduce per una rete a 0 e che nel corso del primo tempo, oltre al gol, ha fatto vedere un buon impianto di gioco e soprattutto delle ottime azioni offensive. A differenza dei messicani che non hanno mai impegnato il portiere olandese. Rodriguez. Moreno. Guardado. Lo carica, gli porta via il pallone. In carta c'è il Messico che riesce a recuperare nuovamente la palla e poi l'arbitro dai calcio all'impunizione. Lenz. Martin Sindi. Blind. Lenz. Ottima l'azione olandese. Sneijder e Jan Mat. Fermato dal Messicano. rinvio di Ochoa. Lion. Fabia. Sterile l'azione messicana. Non sono arrivati al tiro ancora. Ebbene una volta in questo secondo tempo. Ecco il limite dell'aria. Niente da fare. Martin Sindi. De Jong. Sneijder porta fuori il pallone dalla propria area in modo tranquillo e veloce l'Olanda. Adesso è Sneijder che prova ad andare via. Poi è fermato. Jan Mat. Jan Mat. Chiuso da Apegna. Guardado. Rilancio per Dos Santos. Non ci arriva però l'attaccante messicano. Ancora guardado. Attaccato da Jan Mat. Guardado. Vampersi. Sneijder. Sneijder punta l'aria. Il tiro. La palata di Ochoa. Calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo di questo secondo tempo. Dalla battuta De Jong. Marquez allontana su Vampersi. Rodriguez. Guerrera. Dos Santos. Lion. Rodriguez. Marquez. Chiuso dal centrocampo olandese. E ormai siamo giunti alla fine della partita. Messicani sempre sotto di un gol. Blinder. De Jong. Ormai l'Olanda deve solo tenere il pallone. Invece Sneijder prova ancora una volta l'attacco. Ormai la partita è finita. Siamo in fase di recupero. Fernandez. L'arbitro guarda l'orologio. Pegna. Ed è finita. Olanda passa i quarti di finale. Da Bruno Pizzoletto. Collini allo studio. Grazie. Grazie. Got to be the total he What's the touch of class You'll find you the